E dopo le poste anche il Comune di Cagliari si proietta in avanti digitalizzandosi, aumentando i servizi e inserendo un operatore del tutto particolare. Vediamo il servizio di Antonello Lai. Signor Sindaco, il Comune di Cagliari cerca di avvicinarsi ancora dei più cittadini in che modo? Mettendo sul portale a disposizione un sistema di informazioni che permette ai cittadini di avere informazioni sempre più chiare e precise e all'amministrazione di avvicinarsi ovviamente ai cittadini e di recuperare anche dagli stessi una serie di informazioni. C'è una novità, c'è un sistema di intelligenza artificiale con un nuovo dipendente del Comune che si chiama EFIS che permetterà oggi di avere tutta una serie di risposte automatiche sulla base delle richieste che nei corsi di questi anni sono arrivate all'URP e poi sulla base delle segnalazioni e delle domande che arriveranno dai cittadini continuerà a dare sempre risposte più precise. Facciamo un esempio. Il signor Bacchis ha bisogno di un servizio. Che fa? Telefona? Viene? Parla? Deve digitare? Allora, diciamo, venire è forse l'ultima delle soluzioni perché ha tanti strumenti col quale interagire con l'amministrazione stando a casa. Quindi può telefonare, può mandare una chat con WhatsApp oppure c'è un web form dove proprio può dare delle indicazioni e viene in qualche modo guidato per dare, anche per chiedere l'informazione giusta. Abbiamo introdotto questo nuovo assistente virtuale al quale abbiamo dato il nome evocativo di EFIS che in qualche modo aiuta e in seguito avrà anche una voce parlante che sostituirà sostanzialmente l'operatore umano. Un sistema sicuro? Assolutamente. Allora, la sicurezza dei dati, soprattutto dei dati sensibili, è sempre al primo posto in tutte le innovazioni tecnologiche che noi stiamo facendo. Altra cosa importante, ogni cittadino avrà una pagina personalizzata dove ci sarà lo stato dei suoi rapporti con l'amministrazione.